diamo due anelli, abbatto gli anelli e metto in questa maniera si amo? quando lascio l'anello questo rimane sospeso piccolo colpo e l'anello e giro prova prova tu? io lo devo fare non si attacca non fa, come non fa? non mi sembra? non mi sembra non mi sembra no, non viene adesso fa lei è lei, no? qui qui vai qui qui